Il mais è il protagonista di questa nuova puntata di Con i frutti della terra. Per parlarne siamo venuti in Lombardia, che è una delle regioni massime produttrici in Italia. Mais da trinciato, mais da granella. Una coltivazione importantissima per la nostra agricoltura, anche se c'è da dire che le dimensioni rispetto a 30-40 anni fa sono diminuite drasticamente. Pensate che alla fine degli anni Ottanta si era circa 1.300.000 ettari, oggi siamo attorno ai 700.000, quindi ne abbiamo perso la metà. Del resto le importazioni di mais sono notevoli. Nei primi dieci mesi del 2019, i dati dicono oltre 5 milioni di tonnellate. Quindi una coltivazione che avrebbe ancora ampio spazio, certo ci sono comunque dei problemi, delle difficoltà. Per questo le aziende sementiere lavorano per selezionare, individuare varietà che possano dare soddisfazione ai maescoltori. Quindi ottime produzioni, sanità delle piante, buone rese. Noi cerchiamo di capire su che cose, come sta lavorando, in particolare la società sementiera bolognese RV Venturoli. E siamo qui proprio in visita a questo campo parcellare in una giornata tecnica. Giovanni Toffano, responsabile commerciale della RV Venturoli, allora il mais aveva ben altri numeri 30 anni fa, oggi siamo attorno ai 700.000 ettari, ma la situazione com'è? Stabile? In crescita? In diminuzione? Allora, dopo anni di calo la superficie del mais si sta stabilizzando. D'altro canto, tutte quelle aziende che facevano il mais su irrigazione di soccorso, quando c'era un po' di disponibilità d'acqua, hanno dovuto smettere di fare il mais, perché il mais è una pianta che ha costi molto alti e poi mettendolo in stress si produce poco, con il pericolo poi di avere le micotossine e tutte le problematiche legate a piante che sono andate in stress. Adesso si è stabilizzata la produzione, si è differenziato molto negli ultimi 10-15 anni, è uscita una miriade di utilizzatori di insilato di mais, che sono queste grande mamme, i biodigestori, e che la fanno in questo momento un po' la voce del padrone, avendo stabilizzato con loro, anche grazie alla loro presenza, la superficie del mais, perché altrimenti sarebbe stata purtroppo ancora in calo, in quanto conviene al giorno d'oggi importare della granella, normalmente dai paesi dell'est, eccetera, perché si ha una maggiore tranquillità di sanità, almeno apparente, e quindi gli importatori si rivolgono a questo, e il mercato italiano è abbastanza penalizzato da questa situazione. Come ho detto, Lombardia è una regione grande produttrice di mais, non è la sola, ci sono altre regioni importanti, è comunque una coltivazione che si concentra nel nord Italia. Allora, si concentra nel nord Italia il 70-75% del mais, si fa in Friuli, Veneto e Lombardia, e Piemonte. Poi abbiamo zone particolari del meridione, tipo la zona di Latina, la zona di Caserta, la zona di Salerno, la zona tipica delle bufale, però dobbiamo ricordare che comunque sono ambienti che hanno ottima disponibilità idrica, e quindi riescono ad ottenere delle produzioni di insilato sicuramente molto interessanti. Come dicevo, società sementiere lavorano per individuare varietà che diano soddisfazione agli agricoltori su diversi fronti. Quali sono questi fronti? Insomma, il maiscoltore cosa vi chiede? Allora, il maiscoltore chiede tante cose, ma chiede prima di tutto di far reddito. L'Italia è famosa perché c'è questa zonezzazione delle aree agricole, e quindi quello che va bene qui dopo un chilometro non va più bene. Quindi la ricerca sempre comunque di piante con ampia adattabilità all'accambiamento di coltivazione agronomica, quindi terreni lettamati, terreni non lettamati, terreni con ottima disponibilità idrica, terreni con irrigazione di soccorso. Quindi anche nell'ambito di questo le varie aziende iniziano a suddividere piante destinate ad ambienti ad alto stress e piante destinate ad ambienti con pochissimo stress. Nell'ambito di questo poi c'è chi vuole destinare la propria produzione a granella, quindi piante tipicamente al ciclo un po' più corto rispetto ai cicli che sono i 650-700 che si fanno i trenciati, quindi piante con ciclo un po' più corto. Poi c'è chi vuole la produzione di insilato con piante con alto contenuto di granella perché l'amido è la parte energetica più importante nell'insilato, però vogliono piante alte, però vogliono piante che abbiano questa persistenza fogliare, quindi questa ampia finestra di trinciatura, quindi l'apparato fogliare rimane verde abbastanza per permettere di avere quei dieci giorni di tempo per favorire la trinciatura, completa e sana, eccetera. e vogliono comunque una pianta sana che stia in piedi e quindi diventa difficile trovare tutte queste combinazioni, però ci si riesce. Ci si riesce, ci si riesce. Questi ovviamente sono maesibridi. Sono tutti maesibridi a incrocio semplice, qui ottenuti tra due linee parentali che permettono di avere una stabilità produttiva decisamente superiore rispetto a tutte le altre forme di ibridazione che è possibile fare nella coltura di maes. Per R.V. Venturoli maes che cosa significa? R.V. Venturoli significa una cosa molto importante. Abbiamo una storicità alle spalle grazie ai rapporti che avevamo fino agli anni, a fine anni, all'inizio anni 2000, con una storica azienda americana, la RENC, che ha permesso di anticipare i tempi, l'inserimento di materiali che poi sono diventati dei grandissimi materiali tipo il Vic, successivamente il Brian, materiali che hanno fatto un po' la storia della maescultura in Italia. In questo campo ci sono 31 materiali. Molti hanno un nome, sono famosi, vengono piantati già da tempo, altri arriveranno in catalogo, poi dopo li vedremo, li conosceremo ad uno ad uno, altri hanno ancora la sigla, insomma. Voi che cosa cercate di capire da questi campi? Allora, diciamo, è l'ultimo passo per quanto riguarda la selezione dei nuovi materiali. Dopo n prove, parcellare, fatti in diversi ambienti della pianura padana soprattutto, si arriva a un pool di materiali che per dati produttivi, per tenuta di pianta, eccetera, promettono di essere materiali importanti. Semplicemente oggi abbiamo visitato un campo demo destinato alla rete vendita, quindi mostrare in anticipo quello che ci sarà da vendere il prossimo anno, ma quello che arriverà tra due anni e molte volte tra tre anni. Dopo aver inquadrato la situazione della maescultura, adesso ci concentriamo su quelle che sono le novità. Mirko Malossi, funzionario commerciale. Per cominciare abbiamo Tritone, qua di fianco a noi. Sì, nelle 31 varietà in prova ci sono già tre ibridi messi in catalogo 2021, due 130 giorni e uno 127 giorni. 130 giorni, il primo è Tritone, che si caratterizza per un'alta produttività, un'ottima qualità della granella, adatto soprattutto agli ambienti molto fertili e con disponibilità idrica tipo questi. Come viene utilizzato, come viene lavorato? Principalmente da granella, lo proponiamo, ma può essere utilizzato anche da trinciato, in semine ritardate, date comunque la taglia della pianta abbastanza alta. Eh, infatti la vediamo, è svetta. Allora, abbiamo spezzato la spiga, perché? È un gesto che io vedo fare da voi in continuazione. Quali sono le cose che si riescono così a vedere immediatamente? Già valutandola, spezzandola, si valuta la qualità della granella, si vede che il chicco ha grosse dimensioni, un buon peso e inoltre tutto ha anche un basso contenuto di acido linoleico. E qui invece abbiamo altre due novità, sono vicine, quindi per noi è anche molto comodo, abbiamo Urano e Ovidio. Allora Mirko, quali sono le caratteristiche di queste due varietà? Allora, Urano è sempre 130 giorni, come abbiamo visto prima il tritone, però è già più adatto a tutti gli ambienti, non in particolare a quelli ad alta fertilità, quindi può essere usato anche negli ambienti da stress, dove l'irrigazione si dà solo in caso di bisogno, ha delle buone caratteristiche di produzione come granella e nel caso anche da trinciato per le semine ritardate. Ovidio invece, 127 giorni, è un'inserzione della spiga più alta rispetto a Urano e questo è dato a tutti gli ambienti, soprattutto quelli da stress, quindi forse anche il sud Italia, e anche questo destinazione principale, utilizza granella. Qua quando è che si andrà a trebbiare? Ah, qua abbiamo visto i cicli percoci, che sono già avanti come maturazione, i cicli un po' più tardivi stanno arrivando, quindi in 15 giorni, 20, verrà a trebbiato e così avremo anche i dati della verifica sul campo, della produttività, insomma, esatto. Se fossero andati invece da trinciato in silato, sarebbero già stati trinciati. Certo, ecco, epoca di semina, epoca di raccolta? Qui il campo è stato seminato in epoca, quindi direi metà aprile, e come vediamo, sì, raggiunge la maturazione chiudendo il ciclo nei giorni indicati. Noi abbiamo visto le novità che saranno in catalogo, ci sono però anche già delle varietà consolidate che vi danno, immagino, soddisfazione, visto che stanno crescendo come numeri, quali sono? Sì, poi soprattutto in questa zona, dove comunque va molto il trinciato, Spartaco e Attila, anche i cicli più percoci, tipo Archimede da Granella. Riprendiamo la linea da Cicognolo, provincia di Cremone, in questo campo, vetrina, R.V. Venturoli per il mais, in compagnia da chi gioca in casa, io mi permetto di definirlo così, ed è Giuseppe Barbieri che per R.V. Venturoli segue appunto le province di Cremona e di Bergamo, province dove la maiscoltura è una tradizione. Nel resto i terreni sono molto fertili, acqua c'è, ce n'è tanta, c'è proprio una cultura della coltivazione del mais. Allora, intanto, quest'anno l'annata come è andata? Allora, l'annata è iniziata in modo molto buono, i mais si sono sviluppati in una maniera incredibile, quindi erano bellissimi, solo che poi a macchie di leopardo sono intervenuti temporali, grandinate che hanno rovinato i mais e anche altre colture tipo soia, tipo sorgo. Naturalmente là dove non sono stati colpiti hanno dato dei risultati molto buoni quest'anno. Abbiamo delle produzioni di trinciato che sono, oserei dire, eccezionali per l'annata, per diverse annate, erano anni che non si vedevano produzioni così alte e con mais... Quanto si è fatto? 900 quintali a ettaro sono produzioni. Il nostro Catullo, che qui vedete, a casa di un agricoltore che fa i suoi confronti e mi ha girato i risultati, ha rivaleggiato con i mais più blasonati, diciamo, del mercato e ha primeggiato sia come produzione, sia come percentuale di sostanza secca e come qualità del prodotto, perché pianta sana produce un trinciato sano che poi va in trincea e viene utilizzato con dei risultati naturalmente eccezionali. Ecco, ma si fa soprattutto mais da trinciato o da granela nelle sue zone? Beh, ormai prevale il mais da trinciato, sia per la necessità degli animali, sia per il numero elevato di biodigestori che ci sono e il residuo, gran parte, non viene portato a granella secca, ma ne va solo una minima percentuale granella secca. Molta granella viene raccolta e viene fatto il pastone di mais che viene utilizzato sia per l'alimentazione dei maiali, sia per l'alimentazione delle mucche. E diceva, l'acqua non manca perché al mais di acqua ne serve parecchia. Ne serve parecchia. Difatti quando arriva il mese, la fine di giugno, il mese di luglio, è cruciale avere l'acqua perché se il mais va in stress poi fa fatica a riprendersi. Non è come il sorgo che vendiamo noi, il sorgo da granella, che nonostante la carenza d'acqua riesce a sopportare lo stress, si ferma e poi riprende come se non fosse successo nulla. Il mais ne risente. Qui fortunatamente l'acqua non manca. Le diceva Catullo. Insomma, lei a Catullo ci ha affezionato. Sì, Catullo dà dei risultati che sono... È un mais che tutti dovrebbero mettere perché dà delle soddisfazioni incredibili. Sia come bellezza della pianta, robustezza dello stocco, capacità di tenere il verde, che nel trinciato la capacità di star verde è determinante perché non sempre quando il mais è pronto per il trinciato si può intervenire. Magari piove, nel terreno è bagnato, non si può entrare con le macchine. Quindi se si va a intervenire una settimana dopo c'è il rischio che se non c'è tenuta di verde il mais sia troppo secco e poi il trinciato non risulti bene. Quindi viene attaccato da muffe, non riesce a essere compattato come si deve e il prodotto ne risente, si deteriora. Insomma, ecco, e per le bovine e per tutti gli utilizzi che vengono fatti le muffe non vanno bene. Assolutamente. E quindi questa è una cosa fondamentale. Fondamentale. Questa è una delle caratteristiche che i produttori di mais da trinciato vogliono da un mais che rimanga verde. Sicuramente. Chi invece produce mais da granella che esigenze ha? Sono un po' le stesse esigenze, nel senso che la pianta deve mantenersi sana perché se è sana riesce a nutrire la pannocchia fino in fondo. Se invece la pianta essica o vira precocemente c'è il rischio che non ci sia una maturazione della granella ma ci sia un appassimento. Quindi con un risultato in termini di peso specifico che non c'è, come qualità delle farine che non c'è perché quando il chicco non è nutrito poi dà una farina di scarso valore. Quindi diciamo che il principio è lo stesso. Un mais da trinciato sano va bene anche per un mais da granella perché forse essendo verde fino alla fine ci sarà qualche punto in più di umidità nella raccolta della granella però viene compensata ampiamente dalla qualità della granella. E adesso invece con Massimo Premi cerchiamo di capire come è andata nelle province di Mantua e Brescia perché sono quelle che lui segue proprio per R.V. Venturoli. E allora Mantova e Brescia come Cremona, Bergamo, insomma un pochino tutta la Lombardia grandi produttrici di mais. E intanto quest'anno l'annata in particolare com'è andata? Ma Dio, diciamo che l'annata è stata sia dall'inizio quando sono state fatte le semine a questo momento in cui stiamo facendo le raccolte, stiamo già in fase di raccolta granella prima quella di trinciato e pastone integrale sta andando direi molto bene. La destinazione trinciato granella, appunto lei diceva su uno stiamo lavorando fra poco e nell'altro abbiamo già raccolto, più o meno qual è la percentuale? quanti sono gli ettari in quella zona insomma? Ma noi facciamo circa 5.000 ettari di mais tra Mantua e Brescia che io seguo diciamo il 70% è destinato a pastone trinciato di cui il 50 è 50 il resto il 30% del 100% viene destinato a granella secca per allevamento suini e bovini da latta fermo restando che non ci siano problemi sembra che quest'anno non ci siano delle grosse incidenze delle tossine poi la sanità degli ultimi ibridi resistenza meccanica alla piralide sicuramente ha fatto sì che l'incidenza quest'anno sia molto molto ridotta Nelle province appunto che lei segue quali sono le varietà ai quali i maescoltori sono più affezionati insomma quelle che danno anche le soddisfazioni maggiori? Per quanto riguarda gli ibridi che stiamo praticamente sviluppando e portando avanti in queste due province si parla di classi di maturazione 500-700 500 abbiamo ancora il nostro Jeff che ci dà ancora delle soddisfazioni dal punto di vista della produzione in granella poi ci sportiamo il 600-700 dove abbiamo varietà ibridi come Orazio, come Attila che ne abbiamo qui vicino un po' di... che è sempre... è bello da vedere anche per me che sono una profana non so se è esatto anche averli in azienda questa è la classica erba del vicino che è sempre migliore delle altre anche la concorrenza ci ha fatto i complimenti lei in mano ha preso una pannocchia di Attila che tra l'altro è andato a cercare all'interno perché ovviamente tutti dicono quelle di bordo sono sempre le migliori io le ho preso all'interno perché al bordo sono migliori per chi non... prende un po' più di luce eccetera e quindi sono in situazione fortunata lui le è andate a cercare dentro con occhi attenti e insomma ha trovato quello che cercava esatto a parte la pianta che è di ottime dimensioni e sviluppo vegetativo interessante tenuta del verde molto buona si vedono ancora le foglie basali che sono oggi che è il 3 di settembre molto sane, molto verdi poi si parla della spiga la spiga è un 18 ranghi molto bella compiuta fino in punta niente dimensioni direi eccellenti ma le rese ovviamente dipende da varietà varietà, da azienda, da azienda ma per fare una media le rese medie per ettaro ma noi quest'anno dai raccolti che abbiamo i dati in mano in questo periodo siamo oltre i 130 quintali a ettaro di granella secca quindi sono rese molto buone molto buone e interessanti dal punto di vista economico il mais per i produttori i sommi prezzi non è che sono altissimi diciamo che il costo il prezzo di mercato della granella di mais se non si fanno certe produzioni non si pagano le spese per quanto riguarda il trinciato lo si toglie 15-20 giorni prima è un problema in meno che l'agricoltore ha perché ha liberato il campo deve fare solo i costi e i conti di quello che ha realizzato o realizzerà perché i pagamenti non sono così simultanei con la consegna del prodotto però vedendo anche le nostre le nostre varietà vedi Spartaco possiamo dire che le rese arrivano quasi a 900 quintali a ettaro 900 quintali a ettaro con un prezzo medio di 360-370 al quintale vuol dire quasi 3.000 euro al ettaro 3.000 euro al ettaro togliamo pure 1.500 euro 1.800 euro di spese insomma comincia ad essere comincia ad essere abbastanza interessante esatto una redditività poi chi ne fa di più chi ne fa di meno comunque beh certo col mais da trinciato si realizza ancora qualcosa sì chi ne fa di meno chi ne fa di meno